E comunque l'incontro con Alba fu incredibile, credo che abbia fatto veramente un'interpretazione incredibile. Come mai hai pensato a lei? Perché Alba è un'attrice che ama trasformarsi e che riesce a farlo in una maniera abbastanza particolare e rara. L'amavo molto e da subito ero convinta che dovesse essere lei. E quindi finito, Vergine Giurata, ero rimasta con la voglia di indagare ancora Alba. Io spesso dico che Alba è come uno strumento musicale. che può arrivare a tantissime tonalità. Alba dice che è come un strumento musicale che può arrivare a molti tonalità. E quindi ho deciso di proporle un personaggio opposto a quello che avevamo fatto. E quindi ho proposto un personaggio totalmente opposto a quello che avevamo fatto. Che è Angelica. Angelica. Che è un personaggio bizzarro, libero, pazzo, esagerato. E molto esterno. Mentre l'altro era tutto interno. Il personaggio di Angelica è un personaggio molto esteriorizzato, completamente diverso e all'opposito del primo. E con Alba c'è un lavoro che facciamo condividendo moltissimo, divertendoci, improvvisando sul set. Molte delle scene legate a casa di Angelica e come anche l'inizio di Vergine Giurata sono nate da un'improvvisazione tra me e lei. Quindi con Alba abbiamo lavorato sull'improvvisazione e ci sono molti scene, anche sull'improvvisazione, ma anche in Vergine Giurata, soprattutto al principio. Sono delle scene che non sono state scritte e che sono nate dall'improvvisazione del rapporto che abbiamo le due. Quindi davvero scatta qualcosa di molto particolare con lei. Con Alba c'è un rapporto molto particolare. Sì, è una Sardegna lontana dalla cartolina ed è girato tutto nella costa, non verso l'Italia ma l'altra. Quindi Oristano, quella parte lì, Cabras in particolare. Io ho passato circa due anni a perdermi in quest'isola, ma all'inizio l'ho scelta distinto. I produttori, quando gli ho proposto la storia, giustamente dicevano che una storia può essere ambientata ovunque. Mi proposero di andare al nord d'Italia. Sì, la questione portava su la Sardegna, perché. La Sardegna è passata molto tempo in Sardegna, ha cercato questo endroit da Oristano e Cabras, che non è veramente una zona turistica. E quindi non è là. E i produttori, quando hanno detto che vogliono tornare in Sardegna, perché non l'Italia del nord. Ma questa era una delle mie domande. E io sono andata all'inizio al nord d'Italia e sono tornata dicendo no, è impossibile, devo andare in Sardegna. Quindi l'istinto e il fatto che comunque d'estate da bambina sono andata spesso lì, ho fatto un viaggio con mia figlia da sola lì. C'erano degli elementi di pancia, diciamo. Sì, allora la Sardegna, quando ero piccola, ero sempre in Sardegna. E con mia figlia, ero all'inizio in Sardegna. E, diciamo, ho chiesto la Sardegna perché si veniva dall'interno. C'è qualcosa che ha a proposito delle entrai. Poi ho iniziato a lavorare sulla Sardegna legata alla storia e ai personaggi. Ho trovato tantissime risposte, quindi non solo di pancia, ma di pensiero, di riflessione. Sì, e quindi dopo ho cominciato a lavorare l'istoria per rapporto alla Sardegna e ho trovato molte risposte, non solo al livello delle entrai, ma anche al livello delle idee e della tête. Diciamo che è una madre terra e questo elemento si respira subito. C'è una terra mer, c'è un elemento che quando andiamo in Sardegna lo sentiamo immediatamente. Ha dei paesaggi fortissimi, quasi prepotenti, che mi ricordavano questi personaggi. E poi ho imparato qualcosa stando lì, che mi riportava al film. E ho capito che in Sardegna c'è un discorso sull'identità molto particolare. Ho capito che in Sardegna c'è un rapporto per l'identità molto particolare. Perché è una terra, un'isola, che ha un'identità fortissima. C'è un'isola che ha un'identità molto forte, molto ancrata. Soprattutto nell'entroterra, ma non solo. Un po' partout, soprattutto là dove abbiamo tornato, ma non solo là-bas. Però nello stesso tempo, essendo un'isola, si deve sempre confrontare con ciò che viene da fuori. E inoltre, come un'isola, è sempre contraria di confrontare con ciò che arriva. E quindi ci sono alcuni Sardi che vogliono chiudersi. E invece altri che vogliono aprirsi. E altri che vogliono s'ouvrir. C'è una continua domanda sull'identità. E mi sembrava uno specchio interessante sui personaggi del film. Perché sono tre donne che hanno un'identità, un carattere molto forte. Sì, perché ci sono tre donne che hanno un carattere molto forte. Ma che nel film fanno un viaggio identitario. Sì, diciamo che lavoro nel momento in cui si scrive la sceneggiatura, che scrivo con un'altra sceneggiatrice con cui lavoro da tanti anni, scriviamo una prima stesura. Dopo io vado a fare questi viaggi da sola in Sardegna, in questo caso in Albania, nell'altro caso, e ritorno con del materiale e scriviamo una seconda stesura. E arriviamo fino a 11 stesure ogni volta. Per cui io credo che poi alla fine ci sia veramente una fusione tra i paesaggi, il mondo che cerco, e i personaggi e la storia. Quindi quando poi viene percepita, insomma, sono contenta. Io lavoravo con una co-scenarista, già da più molto tempo. Quindi quando ho ho un'idea, abbiamo un'idea, abbiamo un'idea, abbiamo un'idea, abbiamo un'idea, poi ho faccio dei viaggi. In l'ocche l'idea, io sono andato in Sardegna, prima, in Albania. E quando ho arrivo di questi viaggi, abbiamo un'idea, abbiamo un'idea, e così, e poi abbiamo un'idea, e poi abbiamo un'idea di 11 versi. E dopo delle 11 versi, abbiamo un'idea di veramente, che mi sono molto impregnata, e dei paesaggi, avere una corrispondenza tra le impressioni che mi ritiro di questi viaggi, e l'interiorità dei personaggi che si sviluppano all'interno delle versioni. Allora, diciamo che ho un'attrazione istintiva per una voglia di mescolare ciò che è molto arcaico con ciò che è contemporaneo. In Vergine e Giurata erano due mondi spaccati, quello appunto delle montagne dell'Albania e il nord Italia. In questo film, l'idea era di contaminarli e di cercare di mescolarli in un unico mondo, per cui il rodeo iniziale, ad esempio, è legato a una tradizione di cavalli molto antica, polverosa, sarda, con una musica pop sopra. C'era il tentativo di mescolare questi due elementi quando comunque quello arcaico, naturale, probabilmente è predominante. E quindi c'è una mia predisposizione, evidentemente, a un'attrazione verso questi mondi, ma c'è anche, io credo, uno specchio con i temi del film, nel senso che questo film qua, che appunto è raccontato come una tragedia greca, ha in sé delle tematiche arcaiche, appunto, noi scrivendoci siamo ricordati di Re Salomone, il racconto biblico delle due madri che si strappano il figlio, quindi veramente parliamo di qualcosa di arcaico, con delle riflessioni, io credo, contemporanee sulla maternità, sulla femminilità e così era anche per Vergine Giurata, cioè una tradizione albanese legata a un punto specifico di quelle montagne, un luogo piccolissimo con delle tematiche io credo che portava Marche che erano molto contemporanee anche in quel caso e quindi è come se la mia voglia è quella di mescolare a livello visivo e tematico questi due elementi. sono molto arcaico Per esempio c'è il ruolo maschile di questo film che mi viene spesso chiesto quando presento il film e non pensavo che destasse tanto scalpore. In realtà è un ruolo che io difendo molto, che amo molto e che cerca di raccontare il maschile in una maniera che viene poco raccontata al cinema. C'è un maschile che non ha bisogno della forza, un maschile dolce. Umberto all'inizio del film ha fatto il percorso che Tina farà alla fine del film. Umberto all'inizio del film ha già fatto il percorso che Tina farà alla fine del film. E' un uomo buono, un uomo dolce, che non ha bisogno del macismo appunto. Non ha bisogno del macismo per s'affirmare. E questa immagine del maschile che appunto non pensavo creasse tanto stupore, in realtà lo crea. Io credo che in qualche modo in entrambi i film ho cercato di fare una riflessione contemporanea anche appunto sui ruoli sul maschile e sul femminile. Io credo che nei due film ho cercato di sviluppare una riflessione simultanea tra il maschile e il femminile. Diciamo appunto, volevo uscire dallo stereotipo della Sardegna, delle pecore, in cui si parla solo sardo, si sente solo musica sarda, in cui i sardi sono solo bassi e scuri. Quindi volevo uscire da tutto questo stereotipo. Io volevo uscire da questa immagine di Epinal della Sardegna, dove tutti ascoltano la musica sarda, tutti ascoltano la merda, danse, eccetera. Io volevo completamente vider, m'éloignare di tutte queste immagine. Ad esempio, mi sono innamorata di questa bambina, che è tombata amoreosa di questa petite figlia, che secondo me ha fatto un'interpretazione incredibile. Per me, secondo me, ha fatto un'interpretazione veramente incroyable. e che oltretutto ha dei colori irlandesi. Eppure lei è sarda. In più, lei ha un aspetto un po' irlandese, le cheve rosa, n'est-ce pas? Ma lei è sarda. E quindi corrispondeva a questa appunto mia voglia di uscire dallo stereotipo. E le rappresentava, justement, ça corrispondia a mon'envie di sortir da questa immagine della Sardegna. Per il resto, sì, il film è ricco di animali, è stato istintivo in scrittura e crescevano sempre di più, poi a livello produttivo e pratico è sempre molto complicato, quindi sono anche diminuiti dopo. Sì, il film è né di maniera istintiva autour dei animali e même ce rapport aux animaux s'est développé à travers l'écriture e même, par exemple, dans le film, dans le résultat final, on est revenu un peu en arrière. Sono nati con Angelica, ovviamente, e l'idea era appunto che Angelica fosse per la bambina una donna scapestrata, violenta, sbandata, ma che in qualche modo insegnasse a modo suo alla bambina gli elementi anche più polverosi, più rudi della vita, per cui la porta sulla montagna, la fa scontrare con le sue paure, con il vento, con la polvere, con il sangue. Cioè, è una donna che comunque la butta nella vita. E gli animali erano uno degli elementi di questo contorno di Angelica che serviva a far crescere Vittoria. Oui, alors, ce rapport aux animaux est né avec Angelica e Angelica, qui est cette femme, cette fille perdue qui boit, qui trêne partout, mais qui a envie de transmettre quelque chose à cet enfant, à Vittoria, e, pour elle, transmettre quelque chose, c'est le rapport à la réalité, elle la confronte avec ses peurs, elle la confronte avec le sale, avec le sordide, mais tout ça c'est pour lui transmettre quelque chose et on pourrait dire que Angelica jette Vittoria dans la vie. Et donc, aussi, à travers les animaux, à travers le canne, à travers ces cavallis. Elle le fait aussi à travers les animaux, les chiens, les chevaux. Et la chose, diciamo, meravigliosa qui avvient dans ce rapport, est que Angelica scopre de pouvoir être mère, une partie de soi que elle ne pensait pas d'avoir. Et Vittoria découvre, à travers l'Angelica, une partie d'elle même, qu'elle ne savait même pas, qu'elle ignoreait d'avoir. J'ai amé beaucoup cette isole, vraiment, je me suis perdue. Chiarement, c'est une histoire d'amour à trois, où ces deux femmes, pour la première fois, ne les litigano pour un homme, mais pour une fille. Mais ce sont deux femmes qui, au moment où cette fille n'a, il problème, il problème est que ils ne saientont pas et ils ne saient pas seulement la fin du film. Pour moi, le sens du film est justement au final, c'est dans l'accès que cette fille a de ces deux femmes d'une SIME complesse. C'est l'accès et le superément de la complessité. De deux figures femmes complènes et de deux personnes complènes. come siamo tutti noi ce che è importante e per me è stato questo lien tra queste due donne che da parte del pacto da parte da la nascita dell'enfante pensano non essere liate ma in realtà sono liate per tutta la vita e c'è ciò che vedo a la fine c'è che c'è un'enfante per una volta queste due donne non si disputate per un uomo ma si disputate per un uomo e a la fine ciò che è importante per me è di mostrare questa acceptazione l'altro come è e l'on accepte questa situazione e c'è ciò che è importante questa acceptazione dell'altro e della situazione grazie grazie a tutti